Quest'oggi si inizia il capitolo 3. Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft, Meatballcraft Dimensional Ascension. Con l'autocraft di questo wormhole catalyst possiamo dire finalmente di aver raggiunto il capitolo 3. Oh sì, dopo si può vedere quanto? 173 ore più di 7 giorni. Siamo arrivati al capitolo 3. E in questo capitolo 3 la prima cosa che ci chiede è la Deep Blue Matter per cui ci serve il Valonite Gateway e l'Energetic Draconium Ingot e Liquid Corallium. Uh, l'Energetic Draconium non possiamo farlo perché ci serve l'Upgrade Key che si trova in un pianeta, ok. Però il Valonite Gateway dovremmo avere già tutto. Sono cose della Between Lens più Racket Detaxium Brick per dargli un po' di velocità. E non me l'ha preso. Questo va messo al centro per dare un per 5 di velocità. Qui ho aggiunto un po' di cose. Ho aggiunto un Melter che prende il Fiery Ingot che lo butta in uno Smart Output con il Large Plate Cast. Lo stesso identico setup che avevamo fatto per la Rosite ma con il Fiery Ingot, dato che viene utilizzato per il wormhole catalyst. Qui abbiamo un sequencia Fabricator che prende Abyssal Stone, ecora di un gem, e ci fa il Chunk of Corallium. E poi il Chunk of Corallium verrà ripreso dall'interface e inserito all'interno di un Magma Crucible. Eccoci abbiamo l'Ender Chest. Light Blue, Blue, Light Blue con il Liquid Corallium che metteremo qui dietro. Alcune ore cyber richiedono più di 16 secchielli. Mettiamoci questa da 64.000 e questo lo mettiamo in Output. Quindi di qua non possiamo andare e bisogna fare questo? Posso farlo? Mi sa di sì. Mancano solo Steel Coin. Ecco qui un Compactor. Ci mettiamo il Numismatic Press e una volta configurata la Exnet per esportare lo Steel ci darà le Steel Coin e ce le mettiamo qui. Oh, ci sono un sacco di Warper. Facciamo che mettiamo quello che ci chiede la quest, quindi il Terra Piatta Warper e possiamo autocraftarlo. Vai. Ed eccolo qua. Terra Piatta Warper. Open a Temporary Wormhole. Sei attento, non sarai in grado di tornare indietro con questo. Ok, poi ci chiede il diamerisma per cui serve la Deep Blue Matter. Per quanto riguarda il tornare indietro noi avremo lo Slash Home però mi piacerebbe tanto il Dislocator. Ah beh, facciamo il Dislocator e ce lo mettiamo qui che guarda verso il Crafting Terminal. Quindi adesso dovunque io posso fare l'high click e torno qua e ha durabilità infinita perché il Repertalisman funziona ottimo. Ok, quindi apri un portale crei problemi. Cioè posso farlo qui per esempio faccio l'high click faccio l'high click mi sta teletrasportando? Oh, sì, mi sta teletrasportando. Mi ha spawnato sotto terra in mezzo dell'apatite ore e una volta uscito sono stato accolto da un paio di wither ho iniziato subito a esplorare quindi ho esplorato questa struttura e con l'ausilio dello Storage Scanner ho trovato una cesta nascosta sotto il pavimento che conteneva una Aiding Matter. Poi ho trovato anche altre strutture questa per esempio aveva solo delle Cyclope Pumpkin e nient'altro. Questa aveva degli apiari un villager e una cesta con le api dell'acid che si potevano ottenere comunque col breeding una struttura con nova Cataclysm e uno Obsidian Chest con un Basic Power Flower Bonsai Pot una torre con assolutamente nulla al suo interno dei chunk che probabilmente erano un errore. Un'altra struttura con una Magnum Star Omega dentro una cesta e con 4 sapling diversi della Forestry e poi ho finalmente trovato per caso è qui dentro quello che stiamo cercando 6 Upgrade Key mi sa che su questo pianeta abbiamo finito e con questo possiamo fare l'Energetic Draconium Ingoth poi abbiamo Red Matter Energetic Draconium Ingoth 32 Spirit Fruit e 64 Eternalis Full che ci danno la Deep Blue Matter e ora ne abbiamo quasi infinite. Ora che abbiamo la Deep Blue Matter possiamo fare il Piammerismo Warper possiamo craftarlo vai e lui ci dovrebbe teletrasportare all'origine della magia della Star Sorcery ok vai teletrasportami siamo spawnati sempre dentro della stone e una volta usciti ho iniziato ad esplorare anche qui ho visto subito una struttura e è una struttura dell'IKEA in cui non c'era assolutamente nulla ho controllato con lo Storage Scanner ho trovato poi un'altra struttura che aveva un'altra app la Mysterious B che anche questa si poteva ottenere con il Breeding poi ho trovato dei King of Scorcher ed erano vicini a una Obsidian Chest che dentro aveva l'Unclade Key Jump Boost ho trovato poi un'altra struttura dell'Astral con dei Gem Crystal Cluster dell'Astral Sorcery li ho presi tutti e quattro e poi ho premuto il bottone sopra la Bedrock che ha fatto spawnare l'Animator non può essere catturato con la VOOT e dopo averne uccisi due ho ottenuto l'Astral Animator che sarà un altro quiz che dovremo scoprire in un'altra ho trovato una struttura con Sunfire Orb e un Sun Altar in un'altra struttura ho trovato un sacco di spawner di ragni che successivamente ho preso con le Sack of Holding e ho trovato un'altra struttura con i Gem Crystal Cluster questa volta non erano arancioni ma erano azzurre e non c'era altro un'altra struttura con uno spawner di Carmite Golem e dei Celestial Crystal Cluster pronti per essere collezionati una struttura con un paio di Corallus con un Magenta Metapower Flower mentre stavo esplorando avevo finito i tipi della piede quindi ho fatto un'area strappina di M.E. Drive e poi li ho collegati tutti con un P2P poi continuando a esplorare ho trovato un'area dove c'era una Trantla Blood Mother c'erano i blocchi del labirinto dell'Elebus che si trasformavano in lava quindi ho utilizzato il Destruction Gadget e ho trovato il buco per entrare dopo aver ripulito l'intera zona di ragni e aver distrutto tutti gli spawner ho trovato uno Obsidian Chest con Pughead Key Arrow Damage ho trovato anche una casa dentro c'erano un sacco di Zombie Villager e dentro la cesta l'unica cosa utile c'era un Crystal Matrix Ingot poi ho trovato un'area con dei Maghi e con una cesta con un Upgrade Key Attack AOE e delle Infusion Stone vi trovo sulle Alps Food Hill qui ho trovato un Frost perché è un Frost continuate ad esplorare un po' terra piatta e avete presente quella casa con la Cyclops Pumpkin ne ho trovate delle altre non c'era assolutamente nulla se non altre Pumpkin il quiz ti dice che con 4 Soul Viall si può fare qualcosa non so cosa e che terra piatta ci guiderà io ho continuato ad esplorare terra piatta e non ho trovato nulla di interessante se non queste Pumpkin abbiamo la Gas Pumpkin Cyclops Frost e Skeleton qui ho Frost Ghost Skeleton e Cyclops all'inizio pensavo anche Jack O'Man dato che era il mondo di zucche c'erano un sacco di zucche c'erano anche Jack O'Man però proviamo a vedere se così funziona si che funziona ok bello cosa sei? Mark of the Arbiter craft e astral ok cosa fa? fa una Cold Stone che possiamo fare ok quindi posso craftare questo è una Quest da qualche parte perché me lo metti però dopo Experiment non è un ordine proprio ottimale perché se io non avessi fatto su View Mode che mi fa vedere che è proprio questa io potrei anche craftarla prima e utilizzarla prima e poi dovrei rifarla allora direi di non vedere che cosa ci riserva questa Cold Stone che possiamo fare ma di aspettare e di sbloccarla e ora per il prossimo Warper Furatto ci mancano solo gli Orc Crux sono quelli di Harry Potter se non sbaglio che è Life Essence e Liquid LP abbiamo sia Life Essence sia Liquid LP ci mancherebbe quindi l'Hern Altar che è Isle of the Dark e Taxium Brick che credo di poter fare e Hern e Altar Stone Dark e Taxium Brick possiamo farli senza troppi problemi ce ne bastano 5 mentre questo vuole lo Stone Hern e Statue queste possono essere un po' trasciose quando vengono plotte non autopiazzare questa Multiblock ok ci serve il Botled Hellfire per cui ci serve Fiel Youngwind Dragon's Blood del Tullow che otteniamo con Low Beef in un Witch's Oven e poi bottigliette di vetro che abbiamo iniziato a ottenere il Tullow e dobbiamo mettere tutto nella Distillery forse forse vuole il Tullow separato in questo modo sì ok sei bloccato perché non hai più energia vero? sì ok Botled Hellfire ti lascio qui a farne un po' che magari ci serviranno in futuro possiamo quindi fare Stone Hern Statue e Hern Altar Stone ci facciamo dunque il controller due Fluid Input un Item Output e ce lo possiamo mettere qui davanti lo costruiamo di Horcrux ce ne servono due quindi non tantissimi ma hanno altri usi Plasmatic Condensor mi sa che sono cose di cui ci potremo preoccupare in futuro è tutto per fare la lite ingotto ok per un momento quindi solo due Life Essence Liquid LP rosso 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 abbiamo Life Essence e ti metti in Output mentre qui da qualche parte dovremmo avere Liquid LP sì ne abbiamo 18k mettiamo quindi il Lender Chest qui sarà rosso bianco rosso quindi te inizia a riempirti di Liquid LP posso quindi mettere l'Endertank qui in Output e lui dovrebbe iniziare subito a funzionare perché non ha bisogno di altro e infatti ha iniziato ok quindi qua inizierà a darci gli Horcrux e ne farà 6 stack a me ne bastano due quindi ora possiamo fare uratto warper sì ok vai e ce l'abbiamo quest completata e ora ci ha sbloccato questa e possiamo fare no scherzavo craft in table normale che possiamo fare ed eccola qua ok quindi cosa sei immagino possa essere attivata solo nell'overworld quindi ti attiverò qui vediamo ah no devi essere in furatto ah ok ha senso quindi sei obbligato a fare questo prima di poterla utilizzare quindi non puoi usarla prima di furatto ok va bene vediamo quindi com'è furatto ok siamo appena spawnati veniamo accorti da the watcher e i watcher stavano custodendo una cesta con upgrade key shield capacity ok non c'è altro vediamo quindi che cosa succede se chiamiamo questa callstone spawnare un dungeon con questi che sarebbe stato molto bello avere nello scorso episodio è un po' di flux c'è qualcosa qui al centro no frano c'è qualcosa qui sotto no ok ci sono dei bottoni intanto questi me li prendo che sono carini da avere e cosa succede se premo il bottone vediamo con un villager o li spawn all'infinito o solo uno ok all'infinito e tutti questi villager immagino che abbiano le diverse wand direi che me le compro tutte perché no siete dei farmer anche voi quindi se vi sblocco i trader non avete nient'altro di interessante no ok queste possono servire a qualcosa il master wizardry catalyst che poi ci potrebbe dare la flux historian callstone e me ne serverebbero un paio direi che questi villager me li prendo tutti e me li porto a casa a proposito di upgrade volevo fare un paio di villager trade exchanger e noi per fare i machine frame stiamo ancora utilizzando questa recipe però abbiamo questa dato che i fearingot sono in passiva e questa recipe ne da 4 sarebbe meglio quindi direi di rimuovere questa recipe e di mettere questa mi faccio quindi 8 villager trade exchanger e in teoria l'ho mostrato ma brevemente qui non abbiamo più i drive ora sono tutti qui ho deciso di spostarli perché avevamo finito i tipi e mi scocciavo ogni volta da virgolette tirare fuori le cose di cui abbiamo una singola unità per liberare spazi eccetera quindi ho esagerato e ne ho fatti ben 32 e spero che questa quantità possa bastare e per il momento il villager con tutte le wand ce le mettiamo qui basta mettere i dance diamond powder e possiamo scambiarli idealmente per fare questa costa ne servirebbero 8 ne ho già comprata una per ciascuna quindi posso mettere 7 dance diamond powder su tutti e poi le estrarremo tutte in un crate o no prende anche le mob impiesement tool ok quindi blacklist mob impiesement tool use mod owner in questo modo ci prende tutto quello che non è in the self for going forse alcune staffe si sono incasinate perché le ho spostate vedremo tanto abbiamo un sacco di singularity quindi me ne processo altre 3 giusto per andare sul sicuro poi ho continuato l'esplorazione ho trovato un cubo di fabric of reality dentro c'erano un paio di mob e un wooden crate con un upgrade key movement speed poi ho trovato una struttura di blocchi di smeraldo al cui interno c'erano un sacco di creeper c'erano degli spawner e all'interno c'era una cesta che ho rotto per sbaglio ottenendo così l'upgrade key attack damage poi in lontananza ho visto un sacco di ghast spawnare da una struttura c'era una cesta sotto un blocco con un upgrade key shield recovery e una belt of the meteor poi ho visto una boss bar ender chicken ho visto che c'era un uovo in lontananza e una volta attaccato con lo shuriken si è schiuso era praticamente immune ai proiettili quindi ho iniziato a prenderlo da spadate e ho iniziato a perdere vita l'ho anche catturato con la ender shard e poi l'ho ucciso la wood farm purtroppo non ci darà assolutamente nulla di utile ma il boss se lo uccidiamo a noi ci darà le ender feather inoltre nella struttura vicina a cui era spawnato era presente un elden chest con al suo interno blessed stone e l'upgrade key arrow speed ho trovato anche una struttura con delle api le shulking che avevamo già mi sa che per quanto riguarda l'esplorazione dei mondi abbiamo finito quindi direi di passare a radiation scrubber e radiating b radiating b immagino c'è una callstone che chiami l'ape ci serve yellorium che abbiamo deep blue metal che abbiamo e la barren comb che si ottiene dall'arid princess che si ottiene con mido e frugal l'ho già ottenuta e ce l'abbiamo qui radiating callstone questa non so cosa faccia immagino sia nell'overworld troviamo qui ah no nel land eccoci nel land c'è un ender dragon che sta morendo ma non ci interessa troppo ecco qui la callstone con blocchi di electrum ok e qui dentro c'è la thorium incest che ci dà le thorium comb con cui possiamo fare thorium honey cluster con cui possiamo fare insieme al monte il magnesium l'honey infused thorium e ci dà il thorium dust ok e col thorium otteniamo il thorium ma questo non ha il seme quindi perché vorresti l'ape ce l'ho il seme mi sa di sì perché ho 25.000 blocchi 230 2.000 lingotti ok mi sa che quest'ape non ci serve però ce l'abbiamo mentre per quanto riguarda i radiation scrubber ci mettiamo la recipe o no cos'è sta roba questa recipe più semplice non possiamo farla perché non abbiamo lo scaletalingot che mi sa è un po' lontano un po' che era troppo lontano per farla nell'elite invece dovremmo avere tutto proviamo ci manca duplating crystal binder magnesium di borite alloi extreme alloi allora qui ci sono diversi problemi direi di iniziare dal crystal binder calcium sulfate magnesium dust pulverized obsidian e crushed rodo rosite allora quanto ce ne può servire con l'elite rating poi si fanno lo vogliamo fare in passiva cioè direi di sì mi sa che è meglio fare tutta sta roba in passiva perché se poi dovremmo fare anche i reattori eh allora intanto vediamo ci abbiamo tutto no ma il calcium sulfate ce l'abbiamo sono sicuro di questo no questo è il calcium sulfate questo è il sodium fluoride sono incredibilmente simili calcium sulfate solution ho un'impressione che questi ci serviranno quindi direi di pompare al massimo tanto consumano solo 1300 e sono pochissimi mc ma aspetta questo no questo non mi serve ma gli altri tre li rimettiamo al massimo e devo farmi un'altra area pensavo magari di mettere un paio di macchinari lì ma abbiamo bisogno di un sacco di spazio per automatizzare tutta sta robaccia della nuclear craft e sarà probabilmente solo un piccolo pezzo ma mi sono fatto una nuova area qui dove faremo tutte le robacce della nuclear craft ma i lingotti possiamo farci la trafila qui i lingotti non sono un problema quindi ci abbiamo boron e magnesium hanno entrambi mc magnesium di borite alloy e ce lo mettiamo pensavo andasse nel compacted rover ok grafite e diamante hard carbon alloy e la grafite la stiamo producendo passivamente anche i semi ah anche i semi però mi sa che è più veloce cuocere il charcoal con la fornace e anche questo non ha blocchi o nugget e poi l'ultimo per cui ci serve l'hard carbon alloy che esportiamo qui abbiamo finito la prima interface insieme al top alloy che stiamo già producendo in passiva da qualche altra parte in cui utilizzeremo la nuova interface e qui dobbiamo nasconderla perché non voglio che venga vista mettiamo top alloy più hard carbon extreme alloy fammi indovinare te vai in un drawer e non ha né blocchi né nugget ok e questi sono in passiva mettere anche un upgrade che non so quanti ce ne serviranno dire di iniziare con le cose che abbiamo già il magnesium lo stiamo ottenendo dalle scrapbox solo che è un po' lento quindi ho messo una manufactory che prende il magnesium che ha i mc e ce lo butti in questo drawer quando lo avremo collegato lo esporteremo anche da qui questo sarà sequencia fabricator che ci fa il crystal binder abbiamo già pull raised obsidian e magnesium dust ci manca calcium sulfate e questo rosso andiamo per l'ordine calcium sulfate che sarà fatto in un crystallizer che metteremo qui e avrà bisogno di calcium sulfate che si fa all'interno di un chemical reactor con sulfuric acid e fluorite water la fluorite water è fluid en richer crushed fluorite più acqua la crushed fluorite la stiamo producendo dai rock crusher con la diurite e ce l'abbiamo poi mettiamo un infinite water source qui e ce la gestiremo con la exnet sperando che ce la possa fare e la fluorite water andrà messa nel chemical reactor mentre il sulfuric acid acqua più sulfur trioxide acqua non è un problema sulfur trioxide sarà il problema abbiamo vari modi per ottenerlo e di utilizzare il primo quindi oxygen quindi un electrolyzer e poi sulfur dioxide che è ossigeno di nuovo più molten sulfur che è sulfur dust per quanto riguarda l'oxygen sarebbe carino fare l'ape perché le second producono 4000 di ossigeno che non è poco student più imperial e ce l'abbiamo dato che ho appena fatto il setup per l'ossigeno sono tornato a vedere questo vecchio setup e mi ero accorto che qui stavo bruciando l'idrogeno e qui lo stavamo utilizzando e ora ho messo push su da destra quindi l'idrogeno che qua viene prodotto viene riutilizzato qui perché avevo notato che questo era troppo lento e questo aveva troppo poco idrogeno quindi adesso è ripreso a funzionare a pieno regime e che è positivo perché era finito il boric acid probabilmente stiamo riempiendo solo buffer sì stiamo riempiendo solo buffer però è comunque positivo l'ape dell'ossigeno ce l'abbiamo qui ha tutti i geni per la produzione automation upgrade più 8 production upgrade estraiamo insieme all'interno di un melter il melter ci dà l'ossigeno e qua ci abbiamo la endertank light gray light gray light gray quindi qui abbiamo il chemical reactor per produrre il sulfur trioxide che ha bisogno di sulfur dioxide e oxigen e l'oxigen glielo diamo dall'endertank ok qui abbiamo bisogno di un altro chemical reactor sempre con dell'oxigen e del sulfur per fare il sulfur dioxide e il sulfur è melter con indovinate un po' sulfur non so perché ho 207.760 di sulfur che stanno pure aumentando credo che non sarà un problema esportarlo qui quindi questo sarà in output a sinistra questo produrrà solo il sulfur dioxide che butteremo a sinistra e questo produrrà solo il sulfur trioxide e anche questo a sinistra che poi con l'acqua ci farà il sulfuric acid ok quindi sulfur ci fa il molten sulfur che insieme all'oxigen ci fa il sulfur dioxide che di nuovo con l'ossigeno ci da il sulfur trioxide che viene poi inserito qui dentro e insieme all'acqua ci da il sulfuric acid che al mercato mio padre compro questo verrà preso dalla exnet e inserito qui facciamo quindi un altro canale per i liquidi sulfuric acid e inserirà qui ok stai funzionando? stai funzionando ci sta producendo hydrofluoric acid e calcium sulfate solution calcium sulfate solution ci va buttato a sinistra dove iniziamo a produrre finalmente il calcium sulfate per quanto riguarda l'hydrofluoric acid direi black hole tank diciamo push e void excess ok il setup funziona e non capisco o no light gray light gray light gray è liquid starlight allora facciamo light gray white light gray così ok così si riprende di ossigeno e mi sa che la produzione non basta no per niente stavo ottenendo un po' di student per poter fare altri oxigen droni e ho ottenuto un genetic waste non sapevo potesse succedere cosa che mi ha bruciato lo scambio così bello per fortuna che non c'è successo con api importanti beh comunque tengo tutti i geni degli api che abbiamo già qui quindi non è un problema l'ossigeno è troppo poco ho triplicato la produzione pensavo che potesse bastare e dovrebbero essere tutte con i geni perfetti per la produzione quindi non mi spiego ho provato a vedere diversi modi per poter velocizzare l'ossigeno però mi sa che lo lasceremo così adesso ce n'è di più perché ho messo le combo che avevo nell'inventario però tra poco scenderanno stiamo producendo comunque il calcium sulfate e sarà passivo quindi va bene anche se non funziona al massimo della sua capacità ma gli diciamo di esportare il calcium sulfate e ce lo mettiamo qui ora gli manca solo il crash ed questo e in teoria stiamo già ottenendo sì l'abbiamo gli diciamo di esportarlo anche questo e così facendo iniziamo a craftare passivamente il crystal binder perfetto poi colleghiamo questa linea di drawer e il crystal binder dovremmo averlo fatto è finito lo vediamo il calcium sulfate dovrebbe vederlo quindi dovrebbe anche esportarlo qui esatto ok perfetto ci siamo crystal binder in passiva ora ci manca solo la duplating non possiamo ottenere ancora la floodstone quindi dovremmo utilizzare questa recipe abbiamo tutto a parte l'uranium e l'uranium 235 si ottiene dalle tiny camp of uranium che si ottengono nell'isotope separator con uranium o yellowium ma qui diciamo che è più o meno un cane che si morde la coda perché per fare l'uranium ci servirebbero i radiation scrubber per poter assorbire le radiazioni che vengono prodotte ed evitare che possano girondolare per i chunk per cui ci serve l'elip rating per cui ci serve l'uranium 235 per cui ci serve poter assorbire le radiazioni credo semplicemente che ce ne andremo me ne vado allora ci mettiamo un compacting drawer in cui ci metterò un paio di yellowium block poi ci facciamo un isotope separator che metteremo qui gli daremo un po' di energia e un po' di upgrade lui prenderà lo yellowium e butterà fuori a destra quindi qua inizieremo ad accumulare uranium 238 che non ci interessa e tiny camp offriamo 235 che ci interessa e mi prendo un po' di bloc di yellowium e glieli metto qui poi metto in estrazione il 235 che ci serve e qua iniziamo a tenere l'uranium 235 poi ci manca la recipe per la duplating un set di 9 radiation scrubber dovrebbe essere abbastanza con questa disposizione per rimuovere qualsiasi tipo di radiazione prodotta in un chunk per farne 9 servono tutte queste cose che abbiamo cos'è questo che mi nafta perché non ce l'ho in passiva questo ok ci sono alcune cosette che dovremmo sistemare però qui sono richiesti 288 uranium 235 e qua ne abbiamo 311 possiamo quindi prenderli metterli nel sistema e poi craftarne 9 e in turno nel sistema non producono radiazioni vai oh che bello il crafting è un pochino troppo lento quindi mi sono messo un induction smelter ci ho settato due canali dell'exnet per 64 di crude steel e 64 di pulsating iron ma notato che si può inceppare lo stesso perché può succedere se questo non è 64 ma è 63 dato che l'exnet vede 63 può mettere il crude steel se lo mette lo mette qui e si inceppa e può succedere è difficile che succeda ma è una cosa che mi dà fastidio il fatto che possa succedere in ogni caso produzione passiva di enderingot mi sono fatto altri ender alternator perché il bottleneck degli scrubber è l'enchant enderingot decisamente si può velocizzare con questi oh ora è istantaneo ma hanno giunti pochissimi oh beh viene così ce li ha fatti radiation scrubber mi piace il nome di questa quest allora a quanto pare il suggerimento è 4 blocchi di distanza da ogni scrubber quindi una struttura di questo tipo ce li mettiamo dove ho messo la red e il terracotta hanno tutti 4 blocchi di distanza gli uni dagli altri e dobbiamo togliere la terracotta perché non devono avere blocchi vicino a quanto ho capito e poi ci mettiamo degli spatter coil sono consigliati questi quindi direi di utilizzare questi ne bastano 9 e li mettiamo sopra ai radiation scrubber e in questo modo questo chunk non dovrebbe più produrre radiazioni il che vuol dire che ora in questo chunk possiamo processare cose radiative senza preoccuparcene quindi mi sposto il setup che avevo messo nell'overworld qui e inseriamo all'interno dell'isotope separator l'hielorium turanium 238 lo mettiamo verso il basso e ci mettiamo un void upgrade mentre il 235 che è quello che serve per gli scrubber lo buttiamo a destra senza void upgrade in questo modo sarà una produzione infinita di questo li blocchiamo e li colleghiamo con i trim qui dietro al controller girando un po' per la base mi faccio già altri 9 di questi dovremmo avere tutto sì mi sembrava strano che qui ci fossero delle radiazioni e mi sembra che in questo chunk dove abbiamo questa produzione siano leggermente più alte rispetto al normale quindi è da pensare che qui non ci sia qualcosa di leggermente radioattivo quindi ed ecco qui altri 9 radiation scrubber ok quindi in teoria adesso anche nei chunk vicini dovrebbero diminuire col tempo può essere qui ho aggiunto un assembly machine iron wing sack entrambi a noi amici ci danno il black iron e ce lo teniamo in questo compacting drawer in questo modo ce l'avremo sempre passivo poi una question ci chiede il dark metal pedestal non credo lo useremo non saprei cosa metterci sopra però possiamo farlo è relativamente semplice per il nostro livello attuale e ce l'abbiamo e il che ci lascia fission controller e fission reactor casing i reattori li vedremo nel prossimo episodio prima di concludere questo ho sistemati i cubi quindi ci abbiamo il cubo dell'IME drive il cubo delle cose della nuclear craft e il nuovo cubo delle automatizzazioni varie e direi che con questo abbiamo concluso volevo fare un bello screenshot di tutta la base più o meno da qui per la copertina e devo aumentare la render distance perché sennò non si vede tutta la base e per questo episodio mi sono impegnato un pochino più del solito volevo che fosse qualcosa di speciale per il capitolo 3 spero che possa esservi piaciuto e noi ci rivediamo nel prossimo episodio e noi ci rivediamo e noi ci rivediamo e noi ci rivediamo